Indovina cosa mi ha detto Kelly ieri? Lei e Ben stanno vendendo casa. È una magnifica proprietà. Zona incantevole, cucina nuova. Credo che saranno nostri clienti. È meraviglioso, amore. Che agenti immobiliari saremmo senza clienti? Oh no, sta arrivando qualcuno. Svelta, dobbiamo. Fingi nonchalance? La vita era meravigliosa. C'è qualcosa di strano che sta capitando a mia moglie. Non riesco a sentirmi il batto. Cosa? Ha rigurgitato questo. Non avevo la formaldeide o ho usato l'olio d'oliva. Era veramente troppo vomito. Beh, io non sono un esperto. Era un sacco di vomito. Si comporta diversamente. Posso cuocerla, tesoro? Non serve. Mamma morirà? Lei è morta. E anche non morta. Zoma. Detesto quella parola. La trovo negativa. Non piace neanche a me. Allora non usiamo. Mi piace il modo in cui mi sento. Ho un'energia infinita e dormo due ore a notte e faccio così tante cose. Tu mangi le persone. Lo so. È solo che sono molto più sicura di me. e parcheggio in parallelo con una sola manovra. I non morti sono completamente guidati dall'istinto. Ma se non mi controllo, metterò a rischio tutto quello che conta per me. Hai intenzione di lasciarti sola, tesoro? Non ti lascerò sola proprio adesso. Dobbiamo trovare qualcuno che se lo meriti. L'ideale sarebbe un giovane e celibe Hitler. Oddio, saremmo degli eroi. Voi non siete bravi in questo. D'ora in po', ma andiamo tutto a puttane insieme. Boom! Ma che razza di agenti immobiliari sia? Residenziali, anche commerciali, su richiesta. Grazie a tutti.